Ben ritrovati, si rinnova l'appuntamento con l'informazione di TRM H24, apertura con la cronaca, incidente mortale questa notte sulla provinciale 231 tra Modugno e Bitonto, due auto si sono scontrate frontalmente, quattro ragazzi tra i 16 e i 24 anni, tutti di Bitonto hanno perso la vita, altri due sono rimasti feriti e sono ricoverati al Policlinico e al divenere di Bari in rianimazione e questa mattina siamo andati sul luogo dell'incidente. Siamo sulla strada provinciale 231 che collega Modugno-Bitonto, l'altezza del chilometro 2,5 dove ieri sera intorno alle 23 è avvenuto lo scontro tra due auto, una Opel Corsa e una Renault Scenic 4, le vittime tutte giovanissime, due i feriti. Si chiamava Lucrezia Natale, aveva 16 anni, la più giovane delle quattro vittime dell'incidente. Insieme a lei sono morti nello scontro sulla strada provinciale 231, poco prima dell'ingresso di Bitonto, Tommaso Ricci di 23 anni, Alessandro Viesti di 24, Floriana Fallacara di 20. I giovani a bordo di una Opel Corsa erano tutti di Bitonto. Una delle due ragazze nell'impatto è stata sbalzata fuori dall'auto finendo nella vicina campagna a bordo strada. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia stradale e vigili del fuoco. Questi ultimi hanno impiegato 40 minuti per estrarre dalle lamiere il corpo senza vita di uno dei due ragazzi vittima dell'incidente che sedeva sul lato passeggero dell'Opel Corsa. Gli altri due ragazzi, coinvolti nel frontale a bordo di una Renault Scenic, sono due fidanzati, anche loro di Bitonto. Si tratta di una ragazza di 19 anni e di un ragazzo di due anni più grande di lei. La 19enne si trova nell'ospedale di Venere di Bari. È stata sottoposta a intervento chirurgico nella notte per le fratture riportate alla gamba e al braccio destro ed è ora nel reparto di rianimazione. In rianimazione è anche il fidanzato ricoverato al policlinico di Bari. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente frontale sarebbe avvenuto dopo un contemporaneo tentativo di sorpasso ad alta velocità sulle rispettive carreggiate. Sulla dinamica dello scontro prosegue il lavoro della polizia stradale che nella notte ha completato i rilievi. Il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino per il giorno dei funerali. Sarà dunque il lutto cittadino a Bitonto per i funerali dei giovani ragazzi morti nell'incidente sulla provinciale 231. Abbiamo intervistato proprio il sindaco Ricci che ha rivolto alle famiglie un messaggio di cordoglio. La comunità di Bitonto si stringe intorno alle famiglie delle ragazze e dei ragazzi morti giovanissimi nell'incidente di ieri sera sulla strada provinciale 231. Giovani vite spezzate che segnano il lutto cittadino annunciato per il giorno dei funerali dal sindaco Francesco Paolo Ricci. Il primo cittadino che ha seguito fin dalle 4 di notte tutte le fasi dei soccorsi ha rivolto un pensiero alle famiglie delle vittime e a quelle dei due fidanzati ricoverati in rianimazione al Policlinico e al divenere di Bari. Un tragico evento ha colpito la comunità di Bitonto, Palombaio e Mariotto. Un tragico evento per la morte di 4 nostri giovani concittadini, la più giovane 16 anni e il più grande 24 anni. Tutti bravi ragazzi, tutti appartenenti a semplici famiglie, a famiglie della nostra comunità, gente semplice, gente umile, gente laboriosa. La città è davvero rattristata per quanto accaduto e addolorata per quanto accaduto. Ora siamo vicini anche ai due ragazzi che sono versati in rianimazione, sono ricoverati in rianimazione. Pensiamo anche a loro, ai loro familiari, a quanto dolore possono pure provare questi loro familiari. Ecco, siamo davvero addolorati e sicuramente la città, come amministrazione, proclameremo il lutto cittadino. E' stato siglato stamani a Potenza un protocollo d'intesa tra Comune e Guardia di Finanza per prevenire i reati che hanno ad oggetto i fondi della PNRR. La prevenzione dei reati è il miglior modo per contrastarli, a maggior ragione se l'oggetto delle condotte illecite sono le ingenti somme di fondi pubblici che saranno messi a disposizione delle amministrazioni pubbliche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A questo fine è stato firmato nella sede del Palazzo di Città del Capologo di Regione Lucano un protocollo d'intesa tra il Comune di Potenza ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza per rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi pubblici, siano essi economici che finanziari, che interessano le misure di sostegno derivanti dal PNRR. Il protocollo sottoscritto dal Sindaco Mario Guarente e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza, il Colonnello Michele Onorato, muove dalla consapevolezza che il corretto impiego delle ingenti somme sarà un'opportunità straordinaria per aiutare la crescita produttiva e occupazionale dei territori. L'idea nostra è proprio quella di muoverci in chiave preventiva ancora prima che repressiva e il protocollo si colloca proprio in questa scia, nel senso che nel protocollo è previsto uno scambio di dati che sicuramente ci consentirà di seguire real time l'evolversi dell'evoluzione della spesa e inoltre il Comune, nello svolgimento dell'attività amministrativa, potrà segnalarci tutti i casi che iniziano ad essere sospetti e quindi noi poi valuteremo naturalmente sia approfondirli o meno sulla base delle nostre analisi di rischio. Un protocollo importante perché il fiume di investimenti che abbraccerà la città di Potenza è ragguardevole. Considerate che la nostra città è riuscita ad ottenere 64 milioni di euro di fondi PNRR, fondi che ci permetteranno da qui ai prossimi tre anni non solo di cambiare il volto della nostra città ma di offrire ulteriori servizi. Si pensi agli impianti sportivi, alle strade, ai parchi, alle scuole, insomma tutti quei servizi indispensabili per una comunità che verranno rinnovati ed innovati oltre al trasporto pubblico locale. Nunzio Angiola, ex parlamentare ed attualmente docente universitario di economia, è il primo candidato ufficiale alla poltrona di sindaco di Foggia e supportato da una rete di movimenti civici. Vediamo. Nunzio Angiola, ex parlamentare pentastellato, professore universitario, è il primo ad ufficializzare la sua candidatura a sindaco di Foggia. Scriveremo il più grande progetto degli ultimi 30 anni perché è proprio negli anni 70 e negli anni 80 che le foggiane e i foggiani sentivano Foggia come qualcosa di proprio. Da solo non potrò fare niente, c'è bisogno di un grande gruppo di lavoro ma soprattutto di una grande mobilitazione. Sono le foggiane e i foggiani che devono credere in questo progetto di rilancio. Noi ce la metteremo tutta. Il progetto si chiama Foggia Più. Angiola proviene da azioni, appartenenza politica non disconosciuta ma scende in campo con una rete civica supportato da due associazioni, Effetto Foggia e Foggia 5.0. Andrà avanti da solo con le sue civiche di supporto e disponibile eventualmente da alcune primarie? Noi mettiamo in moto una grande mobilitazione civica ma saremo aperti al confronto, al dialogo sia con tutti gli altri movimenti sia con la politica. Per quanto riguarda le primarie questo non è un punto che il Comitato di coordinamento elettorale considera degno di attenzione da parte nostra. Andiamo a Taranto per parlare della casa di Sant'Egidio con l'assessore Alzzaro. È un tassello che si aggiunge alla riqualificazione della città vecchia di Taranto, l'intervento di manutenzione straordinaria della casa di Sant'Egidio. Sul pendio Lariccia, la casa natale del Santo è un bene storico e simbolico per i tarantini ma ormai è anche una meta turistica. L'intervento, disposto dalla direzione patrimonio iniziato il 16 gennaio scorso, è consistito nella messa in sicurezza e nel restauro della facciata esterna e di alcune parti interne. Interventi importanti alla casa di Sant'Egidio, un simbolo della cittadinanza, di Taranto. Sì, nell'ambito della riqualificazione che stiamo portando avanti in città vecchia, uno degli interventi proprio programmati e ultimati qualche settimana fa è proprio la casa di Sant'Egidio. È un luogo simbolo della città di Taranto, non solo del quartiere ma anche meta di pellegrinaggio turistico. Quindi abbiamo proceduto insieme alla direzione patrimonio alla riqualificazione non solo delle facciate esterne ma anche interventi anche all'interno dell'immobile. Quindi è una bella notizia, un'ulteriore bella notizia per la città. È stata presentata questa mattina l'ottava edizione di Amabili Confini, cinque appuntamenti con importanti scrittori dal 18 maggio al 15 giugno, anteprima il 4 di maggio con Edoardo Albinati e Data Off il 22 giugno con Marcello Fois. Vediamo. Amabili Confini è una rassegna di scrittori ma ancora di più è un progetto di rigenerazione sociale in quanto itinerante tra i quartieri periferici della città e in quanto occasione per i cittadini di sperimentarsi anche se per la prima volta con la scrittura. Una scrittura che diventa quindi strumento di confronto con gli abitanti dello stesso testo urbano, con affermati autori, una scrittura che si trasforma in strumento di analisi interiore, di crescita. I racconti brevi o poesie potranno essere inviati fino al 30 di aprile, fil rouge di questa edizione, Il Tempo. Non è un concorso ma la possibilità di un confronto? Assolutamente sì, non è un concorso letterario, non c'è una giuria ed esperti che valuta i testi, è un'iniziativa veramente aperta a tutti quanti. Confrontarsi tra loro, confrontarsi anche con gli autori che invitate? Sì, perché c'è la possibilità anche di conversare con autori importanti qualora il testo venisse scelto. Ne citiamo alcuni di autori che avete invitato? Sì, vabbè io citerei intanto i finalisti del Primo Strega, Maria Grazia Calandrone e Carmen Verde, poi Marcello Fois, all'anteprima parteciperà un grossissimo nome che è Edoardo Albinati. Ma lo spirito inclusivo di Amabili Confini non si ferma qui? Noi ovviamente facciamo un bellissimo lavoro anche con i detenuti della casa circondariale di Matera che scrivono i loro testi, ci inviano i loro testi, in questo modo riescono a superare quei confini entro cui sono rinchiusi. E' stato presentato oggi a Potenza invece il cartellone degli appuntamenti della prima edizione della Potenza Maggio in Jazz, otto artisti di fama internazionale e nazionale. Saranno i batteristi Dario De Hida e Lorenzo Tucci, il pianista Andrea Rea ed il bassista Daniele Sorrentino, gli artisti di punta che si esibiranno nella rassegna musicale Potenza Maggio in Jazz, la cui prima edizione è stata presentata durante una conferenza stampa organizzata nel Palazzo della Cultura del Capologo di Regione Lucano. I concerti cominceranno il prossimo 6 maggio e dureranno fino al 26 con 17 artisti diversi ad esibirsi, di questi tre saranno Lucani, ovvero Michele Brienza, Donato Cillis e Raffaele Amato. I concerti andranno in scena in diversi luoghi della città a cominciare dal Jazz Club di Potenza in Via Torraca alla Galleria Civica fino alle vie del Centro Storico. Assessore, quali sono le ambizioni di questa prima edizione? La prima è quella di avere un grandissimo successo, ma ne avrà perché Tony De Giorgi è un direttore artistico straordinario, estremamente odace, che nel giro non di tanti anni, saranno forse una dozzina di anni che sul territorio Tony De Giorgi con la musica jazz e guardate sono pochi per ottenere questi risultati. Ormai nella nostra città e non solo a livello regionale un grandissimo punto di riferimento, quindi questa stagione di maggio, che è un periodo poi importantissimo per la nostra città, ma vederla anche, come dire, decorata in maniera qualitativamente così importante per la musica jazz e per i cittadini è veramente un grande passo in avanti. A livelli di ospiti c'è Dario De Iddal, basso, uno dei bassisti più forti che abbiamo non solo in Italia, con il chitarrista Guido Di Leone. Poi ci sta Valentina Ranaldi, una cantante jazz di Napoli, giovane, con un trio di bravissimi musicisti. E poi abbiamo invitato un altro bravo musicista, Lucano Potentino, Michele Brienza, che ho voluto nella rassegna jazz, perché è veramente un bravissimo musicista. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, linea alla regia. Grazie. Grazie.